Seduzione e friendzone. In questo video voglio parlarti del legame che c'è tra la seduzione e la cosiddetta zona di amicizia, la friendzone, che è un po' lo spauracchio di tutte le persone che vogliono sedurre. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere di farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. E adesso veniamo alla seduzione e alla friendzone. Allora la friendzone, la zona di amicizia, molte persone diciamo che si educono la vedono come una zona terribile, non mi ha frenzonato, adesso sono visto come amico. Allora in realtà non è una zona così spiacevole, anche perché amicizia e amore provengono diciamo dalla stessa radice. Quindi potrebbe essere una buona piattaforma di partenza. Anche perché mantenere un rapporto di amicizia, da un certo punto di vista, con una persona è più semplice. Ad esempio con una persona che ha difficoltà a raggiungere sentimentalmente, ad esempio perché potrebbe essere impegnato, perché potrebbe, diciamo, avere situazioni di difesa, per cui non vuole sviluppare una relazione sentimentale-affettiva per diversi motivi. Possono esserci delle situazioni, perché magari ha sofferto in passato, perché magari sono capitate diverse situazioni in cui è rimasto, per così dire, bloccato. Allora tutte queste situazioni diciamo che fanno sì che questa persona comunque non viva bene la possibilità di una relazione sentimentale-affettiva, mentre invece l'amicizia magari l'accetta e tu entrando come amico o come amica hai possibilità di farti conoscere, hai possibilità di farti apprezzare e magari di fare il salto successivo. Molte relazioni nascono, diciamo, da amicizie che poi si sono create, diciamo, in modo profondo e da lì si sono evolute. Quindi anche la zona di amicizia può essere utilizzata. Anche, quindi, un punto di partenza, quando incontro una persona difficile, diciamo, conviene metterla in zona di amicizia, cioè non puntare, diciamo, subito alla seduzione. Questa può essere anche una buona interruzione di schema, ad esempio per sedurre persone che normalmente attraggono e che normalmente hanno degli avance, diciamo, da un punto di vista, come possiamo dire, sentimentale, perché magari piacciono molto e loro sono abituate a difendersi da questa cosa. Se tu invece, anziché cercare, diciamo, il rapporto, come dire, sentimentale-affettivo, vai sul rapporto di amicizia, beh, crea una bella interruzione di schema. Questo inizia a pensare, ma se mi vede come amico o come amica, forse non gli piaccio, forse questa persona non ho il fascino che conosco gli altri. Quindi vai comunque a generare subito un, come possiamo dire, un'interruzione di schema che potrebbe essere utile. Tra l'altro ci sono anche dei vantaggi secondari. Poi da un punto di vista di entrare in zone di amicizia con una persona di sesso opposto, che ad esempio potrai conoscere i suoi amici o le sue amiche. E questo potrebbe anche portarti a trovare degli antagonisti all'interno della sua stessa cerchia, perché se una persona, appunto, entra in zone di amicizia e poi inizia a frequentare, ad esempio, i suoi amici o le sue amiche a seconda del sesso, diciamo, e tu dopo potrai da lì agire, magari, anziché, a te piace Tizio, anziché puntare su Tizio, inizi a, che ne so, a puntare su gli amici di Tizio, Caio Sempronio. E' ovvio che Tizio potrebbe avere una sorta di gelosia nei confronti di questi, quindi potresti scattare, intanto tu non si faceva niente di male, visto che con Tizio ti sei proposta come amica e quindi potresti far scattare però dei meccanismi di riprova sociale all'interno di un contesto per cui potrebbe essere un qualcosa di utile. O comunque in generale, diciamo, potresti conoscere tranquillamente persone nuove, qualora con Tizio la cosa non va bene. Diciamo che ovviamente questa situazione del passaggio dell'amicizia non è una situazione che si evolve in tempi brevi, quindi l'evoluzione temporale del passaggio, diciamo, dalla friendzone alla seduzione è sicuramente più lungo di puntare direttamente sulla seduzione, però ti dà anche diverse opportunità in più, ti dà l'opportunità di... ti dà l'opportunità di lavorare su più fronti, perché mentre tu, diciamo, nel corteggiamento, se ad esempio nel suo gruppo non è che puoi corteggiare 50 persone, perché sennò ti bruci, ti bruci, non ci fai una bella figura, ma invece il rapporto di amicizia puoi tenerli con tutte le persone che vuoi, nessuno ti può dire niente. Di fatto, essendo amici, diciamo, l'amicizia non è un qualcosa che ci fa una brutta figura se hai 50 amici, diciamo, mentre se ci provi con 50, magari non è che ci fai una figura bellissima. E in questo modo puoi prepararti il terreno, quindi prepararti il terreno e avere nuove possibilità. Il tempo, diciamo, lavorerà a tuo vantaggio da questo... lavorerà a tuo vantaggio. Ovviamente, come dire, il tempo in più che impieghi per portare eventualmente a termine una relazione è compensato dal fatto che tu puoi lavorare in parallelo, quindi aumenti molto le probabilità che, diciamo, che ci sia una possibilità di conoscere la persona giusta, anche da questo punto di vista. Il tempo ti sarà anche utile, nel senso che tu puoi entrare in amicizia anche con una persona impegnata o sposata, e in questo modo non sai mai quello che può succedere nel tempo. Potrebbe separarsi, la relazione potrebbe andare male, insomma, e potrebbe anche venire fuori. L'importante è non fissarsi, diciamo, di una situazione di questo genere, cioè è una delle opportunità. Bisogna, diciamo, procedere al ritmo lento ed attendere anche il corso degli eventi, quindi questo è il vantaggio della zona di amicizia. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere di farmi delle domande in apposite live, alle quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti.